Mi chiamo Sonic e per salvare il mio pianeta, sono dovuto venire sul vostro. Dove sono? Che anno è? The Rock è presidente? Chi c'è? Perché eri nascosto nel mio garage? L'esercito sta venendo a prendermi! Ti concederò cinque secondi per dirmi dov'è. Fermo! Non fargli male! Spaziale! Una gita! Ma non è possibile! Oh mio Dio, fermati all'istante! La palla di elastici più grande del mondo! Dobbiamo vederla! No, questo non è un piacevole viaggio di famiglia. Ah, hai ragione, era deludente. Il negozio era fico, però. Ci nascondiamo qui. Ora che cosa facciamo? Wow! Ti faccio vedere come si fa. Vogliamo andarcene? Sì, è ora. Stai per morire. Arriva il boom! Perché non sei morto? Non ne ho idea! Le schifo! Perché monti via la tua vita per questo stupido piccolo alieno? È mio amico. Questo è il mio potere. E lo utilizzo per proteggere i miei amici. Allora, tu saresti il migliore amico di Tom di cui non smette di parlare. Ma non vedo l'attrattiva. Che cosa schifosa! Let's go!